Run like hell, run like the wind, run like the fire as the devil walks in I hear trouble, bring it back there, burn it down baby, run like hell Bentornati amici appassionati di motori con l'ultima puntata dedicata allo speciale della 49esima edizione del Rally Team 971 che si è svolta lo scorso fine settimana In coda alla 49esima edizione anche la quindicesima del Rally Team 971 storico 25 le vetture a prendere il via, 18 quelle che hanno visto la pedana di arrivo Vincono tutte le prove in programma Marco Bertinotti e Andrea Rondi sulla Porsche 911 RSR con i colori della Rally & Co Film di K Film di K Film di K Grazie a tutti. E sul podio Roberto Rimoldi e Roberto Consiglio su Porsche 911 SC per il team Bassano. Grazie a tutti. A chiudere il podio dell'assoluta Paolo Rossi e Daniele Gaia su Opel Corsa GSI Turis Motors. Grazie a tutti. 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 su Mazza 323 ed ecco che si è chiuso anche questo speciale dedicato alla quindicesima edizione del rally storico 971 speriamo che il video vi sia piaciuto vi ricordiamo di continuare a seguirci su tutti i nostri canali social e vi aspettiamo ad una prossima puntata del programma 2-4 ruote e passioni motori a presto e buona giornata